Josip, benvenuto alla Fiorentina Firenze. Che effetto ti fa essere qui? Sono molto molto contento di essere qui. Questo è un grande club, una grande società e per me questo è un sogno. Sappiamo che avevi tante offerte. Perché hai scelto proprio Firenze? Perché lo so che Firenze e Fiorentina sono una famiglia, una città molto molto bella. Tutti i genti sono tifosi di Fiorentina, questo che mi piace molto. E sempre, anche il motivo sportivo, lo sapevo che per me la migliore scelta è sempre Fiorentina. Come pensi di ambientarti all'interno del sistema di gioco di Mister Italiano? Penso che questo sistema, come gioca Fiorentina e la filosofia di Mister per me è molto bene, perché io sempre giocavo con 4-3-3 e per me questo è perfetto. Ci sono molti esterni, c'è tanta concorrenza. Qual è la tua posizione preferita? La mia preferita è sinistra, left wing. Allora in bocca al lupo, un saluto ai nostri tifosi. Grazie, un grande saluto ai tifosi da Fiorentina. Grazie, un grande saluto ai tifosi. Grazie, un grande saluto ai tifosi.